allora eccoci qua di nuovo studio voglio partire facendovi vedere questa piantina dell'italia oggi l'ha pubblicata il corriere della sera mi ha molto colpito perché racconta di questo nostro paese e mulet le faccio presente che la sua sicilia mulet siciliano se non ricordo male nascita ligure di elezione parlamentare però siciliano nella sua sicilia il 57 7 per cento delle abitazioni abitazioni abusive non solo il dato no c'è poi il dato il dato di partenza è questo ma poi chi prova ad abbattere le case sindaco di licata provò ad abbattere le case dovette alzare le mani dovette dimettersi chi prova a sanare situazioni sulla costa la provincia di trapani prova situa a sanare situazioni è costretto a dimettersi altro dato della sicilia la sicilia con altre nove regioni 8 regioni italiane a il 100 per cento dei comuni a rischio idrogeologico le regioni italiane che hanno un rischio dei comuni tra il 90 e il 100 per cento sono 14 noi abbiamo 7 milioni di italiani che vivono in una condizione di alta pericolosità insomma lei io detesto buttarla in politica perché penso non sia il mio compito però è una domanda che viene al telespettatore immagino che ci segue da casa chi l'ha governata sta benedetta sicilia fino ad oggi se le condizioni sono quello che sono uno con chi se la deve prendere uno sarà deve prendere sicuramente innanzitutto con se stesso perché non c'è dubbio se io costruisco una casa che non è una casa dove abito perché anche bisogna avere il coraggio di dire le cose le cose come stanno la tragedia di casteldaccia di fronte alla quale ognuno di noi prova una pena pensando soltanto ai bambini e già io non riesco ad andare avanti per la pena che provo comunque in quella casa là non era una casa in cui ci si abitava abusivismo di necessità di cui pure tanto si è parlato è stata costruita in totale spregio della sicurezza nell'arco di un reto d'un fiume sulla quale c'era un'ordinanza di demolizione lo raccontavate prima che non è stata eseguita non perché il comune ha fatto appello il tar non c'entra nulla quella casa doveva andar giù così come doveva quando arriva il sito non ha presentato appello al tar la resistenza senza aspettare un atto sono fesserie avete visto la campania campania al 97 per cento allora rifaccio la domanda maggior ragione non erano case abusive chi l'ha governata quella regione non è stata governata da quel punto di vista così come non è stata governata sull'acqua è normale che in sicilia ancora l'acqua ci siano comuni dove arriva ogni tre giorni o addirittura sia una settimana ferma non è normale così come non è normale che succeda in liguria o succede in piemonto succeda nelle altre regioni che hanno il 90 per cento il problema è che in questa disonestà che significa però mettere in pericolo tutti gli altri i cittadini per primi devono assumersi la responsabilità di costruire in un posto un numero limitato e riguarda la politica dove qui ragioniamo di centinaia di migliaia di abitazioni in tutta italia quindi c'è evidentemente una arretratezza culturale che ti fa dire posso costruire tanto poi tanto poi non mi fanno nulla tanto poi oltretutto arriva il condono aspetti che prego alessio poi c'era anche francesca e ci richiedeva sulla sicilia c'è anche un altro dato da aggiungere le ordinanze di demolizioni da gennaio 2014 a giugno 2018 sono state 6.600 poco più quelle che non sono state eseguite sono quasi l'ottantaquattro per cento del totale ne hanno eseguite neanche mille cento sono solo dietro alla campania dove il 97 per cento non è stato eseguito la mia terra diciamo si distingue in un momento in cui voglio sentire solo francesca martelli perché se ci chiede la linea ci sarà qualche aggiornamento francesca si sempre dal comune di casteldaccia il sindaco è leggermente ritardo perché in realtà ha raggiunto il presidente della regione musumeci che in questo momento si trova nella zona posta sotto sequestro e lì vi ricordo nella villetta in questo momento c'è anche il procuratore di termini emerese quindi sulle indagini ci saranno delle delle novità e su questo vi aggiorniamo però vorrei farvi vedere le immagini che abbiamo girato qualche ora fa perché la villa in cui sono morte nove persone vi ricordo tra cui una bambina di un anno si trova in fondo alla strada noi abbiamo percorso la strada in direzione opposta e appunto la vedete è tutta piena di fango e poi piano piano risalendo si vedono delle altre case delle case che hanno gli arredi di velti il livello del fango è altissimo quasi due metri lo vedete a livello anche delle finestre per fortuna però quelle case erano case sono case di campagna case usate come seconde case e quindi quelle erano vuote a differenza della villa in cui si trovavano quelle due famiglie più tardi andiamo in un punto ancora più più in alto di questa di questo comune per farvi capire meglio la situazione però vedete che c'è anche molta vegetazione molto verde intorno a questo torrente torrente milicia e probabilmente anche il verde ha ostruito a un certo punto il passaggio dell'acqua però vorrei farvi vedere una fotografia che abbiamo recuperato ovviamente usiamo il condizionale perché è solo un'ipotesi però in questa fotografia si vede un mezzo una sorta di betoniera e quella quella cosa gialla diciamo che vediamo cerchiata lo dico a casa che ci sta guardando esatto e quindi in realtà quella betoniera potrebbe essere un altro ostacolo un altro elemento che può potrebbe aver ostruito il percorso di questo torrente ovviamente siamo il condizionale perché la procura sta indagando però abbiamo recuperato questa fotografia che ci sembra piuttosto significativa e che è stata scattata proprio sabato allora francesca richiedici pure la linea quando arriva il sindaco borgonovo di che cosa stiamo parlando che storia stiamo raccontando per l'ennesima volta stiamo raccontando la storia di una regione di cui si scrive da anni si fanno inchieste sugli sprechi sull'illegalità su la mancato rispetto della legge in generale stiamo raccontando un pezzo di storia d'italia perché la gente è chiaro che il giorno dopo stia un po si fa la figura degli sciacalli no a dire a fare i commenti così visto che non si è toccati la tragedia a livello personale però è vero c'è questo è quello che succede se uno costruisce una casa abusiva questo è quello che succede se uno non è in regola cioè che alla fine delle persone ci rimettono la vita e qui non è una questione politica c'è lì ci sono tutti destra sinistra centro chiunque c'è dio ricordo forse più inchieste sulla sicilia ne leggo da da quando mi ho messo piedi in redazione di giornale e alla fine la situazione mi sembra che sia più o meno sempre la stessa e quello è uno specifico di quella regione poi c'è anche una questione di ambiente che sta cambiando di cui bisogna avere cura e noi in l'italia credo che ne abbiamo avuto un po poca nel corso degli anni perché poi non c'era solo a sicilia no c'è anche la situazione del veneto che è disastrosa e terrificante la puntata borgonovo ci spostiamo andiamo a vedere quello che sta succedendo diciamo che lo specifico nel paese però anche in questo non sono un po due tali e borgonovo perché lì stiamo parlando dei fenomeni naturali particolarmente intensi e di quello che è accaduto in funzione quello qui stiamo parlando dell'abusivismo crudo esatto e c'è la foto lì c'è la foto dell'italia c'è la foto di un paese dove è chiaro che se c'è una catastrofe e che ti porta via la casa tu non puoi fare niente c'è il disastro del veneto è vero che li vedi prostrati vedi queste persone ti viene solo da dire mettiamoci d'accordo ti do una mano destra e sinistra e aiutiamoli poi però ci sono delle altre situazioni come quelle in sicilia dove è vero che c'è la catastrofe ambientale ma c'è anche una catastrofe umana e culturale dietro e dobbiamo stare attenti perché noi siamo lì ancora adesso si discute del condono ischia che poi dicono i cinque stelle non è un condono no bisogna cioè siamo ancora indietro a queste cose qui infatti diciamo questo ci porta dritti alla domanda all'onorevole carabetta no perché allora viene da dire la sicilia lo ricordava borgonovo troppe volte l'abbiamo raccontata questa sicilia mi permetto di dire che anche in liguria perché poi questo è uno e tanti paesi insieme no perché anche in liguria hanno talmente cementificato che alla fine il mare si riprende il suo diciamo no però onorevole carabetta uno dice adesso c'è il governo del cambiamento quindi io mi sono andata a rivedere anche questa manovra per capire allora il governo del cambiamento quanto ci ha messo sul dissesto idrogeologico del paese quanto ha voluto veramente marcare la differenza e in verità ho trovato poco pochissimo anzi quello che ho trovato è che conte si è sentito di dover dire beh no ci va subito un miliardo per l'emergenza salvini ha aggiunto a ne servono 40 miliardi che anche poi verrebbe da dire chiamatevi nel privato e fateci sapere una cosa ma al di là di questo quello che certamente c'è in questa manovra è il condono per ischia allora prima che lei mi dica non è un condono io le dico perché secondo me è un condono perché quello che è rimasto nel decreto genova è un passaggio che dice che adesso il comune di ischia dovrà dare una risposta a quelli che hanno fatto richiesta di condono sulla base però di cosa di una legge di un condono che è il condono del 1985 quel condono poi superato da successivi condoni quello del 94 quello del 2003 dice che ad ischia si può costruire in zone che adesso sono considerate zone a rischio idrogeologico quindi cosa fate cioè il comune risponde di sì per ricostruire le case nei posti in cui non si può costruire c'è una follia rifarsi a quel condono completamento solo di questa informazione poi ritorno anche un po agli argomenti toccati nella norma che è stata approvata recentemente si dice che queste pratiche che sono pratiche come è stato detto che rispondono a vecchie domande fatte alcune di queste pratiche sono in piedi da più di 15 anni tornando sempre un po alla lentezza di cui abbiamo parlato prima e comunque ogni domanda deve essere subordinata a una valutazione delle sovrintendenze che chiaramente vanno a valutare tutte le implicazioni rispetto al distesto idrogeologico quindi c'è riferimento quella norma ma c'è anche il fatto che si debbano rispettare dei criteri di sostenibilità ambientale ma è quanto meno ambiguo ma perché uno non si rifà l'ultima norma che è quella più stringente cioè abbiamo proprio esplicitato questo punto proprio per evidenziare che la valutazione deve essere subordinata a una valutazione ulteriore da parte della sovrintendenza su oggi è una giornata molto particolare comunque perché anche commentare parlo per me parlo anche per il collega Mule credo particolarmente difficile perché poi è sempre un terreno tra la politica il gioco politico e poi la realtà dei fatti quindi premettiamo un attimo questo una cosa su il miliardo e i 40 miliardi salvini parla di 40 miliardi quando dice che quando vuole dare una dimensione al problema cioè quanto costa sanare l'italia e secondo me è indicativo questo numero perché ci fa capire di quanto grande sia il problema solo che nessun governo e nemmeno quello del cambiamento ha fatto di questo la sua missione e uno magari dal governo del cambiamento se lo aspetta come è stato detto in realtà questi 900 milioni volevo che la betta le chiedo perdono però è arrivato il sindaco e ci ci ricolleghiamo con francesca martelli e poi riparto da lei ovviamente ma prego prego francesca si esatto ci ha raggiunto e ha finito il sopralluogo il sindaco giovanni di giacinto sindaco di casteldaccia che è sindaco dal 2018 ma prima era consigliere regionali in sicilia quindi ci può anche aiutare a capire visto che lui lamenta un problema di fondi dove secondo lei si fermano dove c'è l'imbuto quale sia il problema però prima facciamo un po di chiarezza ieri sera in diretta televisiva ha puntato il diritto contro il tar la giustizia amministrativa perché il comune nel 2008 aveva emesso un'ordinanza di demolizione di quella villetta in cui sono morte quelle nuove persone poi lei ieri ha detto aspettiamo i tempi del tar questa mattina il tar l'ha smentita ha detto no io per intanto non ne ho additato nessuno ho detto ieri sera che gli uffici del comune testualmente mi avevano comunicato che quell'ordinanza del 2008 è stata impugnata davanti al tar e che era ancora pendente giudizio al tar questo è quello che ho detto ribadisco e quindi lei dice io ero in attesa però il tar invece stamattina le ha detto no dal 2011 la potevate demolire va bene il tar dice questo io stamattina di prima mattina mi sono alzato ho fatto una richiesta al tar perché a noi non è stato notificato ad oggi nulla ho chiesto che mi venisse notificata quella sentenza sindaco ma voi vi siete costituiti parte civile perché il fatto che il comune non si sia a quanto pare costituito parte civile ha impedito a voi di avere le informazioni intanto buon pomeriggio buon pomeriggio a lei allora per intanto al tar non ci si costituisce parte civile si ci costituisce a livello amministrativo noi di solito non ci costituiamo nel ricorsi sì sì vabbè ho capito lo stesso non è quello il problema volevo semplicemente precisare che non è parte civile noi per intanto quando si tratta di ordinanze di demolizioni che sono così chiare di solito non ci costituiamo al tar perché non abbiamo un ufficio legale e ci dovremmo rivolgere puntualmente all'esterno e il ricorso al tar mediamente costano 5 mila euro soldi che il comune non ha perché sono tantissimi il ricorso al tar che vengono fatto e noi quando sappiamo di avere ragione non ci costituiamo di fatto di al tar però il problema non è questo io ritengo che se è un procedimento però non so che cosa prevede la legge quindi non sto qui a polemizzare con nessuno perché per quanto mi riguarda non è il momento né delle polemiche né di altro io ritengo che se è un procedimento è decaduto vada comunicato a tutti a tutte le parti interessate ora se la legge prevede un'altra cosa io ne prendo atto quindi lei dice dovevano comunicarcelo e se noi l'avessimo saputo saremmo partiti con la demolizione esatto che è decaduto sindaco ma quante case avete demolito nel suo paese? nel corso del suo mandato lei quante case ha demolito? no no ad oggi non abbiamo demolito nessun immobile però le posso assicurare che gli immobili censiti da parte del comune che sono oggetto oggi di ordinanze di demolizioni saranno una trentina di cui questo immobile di cui è successo la disgrazia e questi 30 sono tutti fermi? voglio sfatare questi 30 immobili? sì in atto sì perché non ci sono i soldi per demolire non ci sono i soldi per demolire perché il mio comune è un comune in dissesto finanziario quindi ho chiesto e chiederò l'aiuto alla Regione, al Presidente Conte, a quant'altri che ci diano una mano perché mediamente abbiamo calcolato che la demolizione di un immobile costa mediamente 60-70 mila euro per cui avremo bisogno per demolirne 30 almeno un milione euro è chiaro è chiaro sindaco senta le faccio un'altra domanda sono tanti soldi che io non ho è chiaro questi 30 immobili sono tutti disabitati? questo non glielo so dire non ho fatto questo censimento le posso dire che l'immobile della tragedia a noi risultava disabitato non c'è nessun residente in quell'immobile questo è un dato accertato già con l'ufficio anagrafico aspetti un attimo sindaco che credo che Borgonovo le voglia fare una domanda prego Borgonovo mi domando come sia possibile che risultasse disabitato un conto è non avere 30 mila euro per buttare giù una casa un conto è mandare la polizia locale, i carabinieri a verificare se lì dentro c'è qualcuno perché un conto è buttare giù una casa un conto è tenere fuori la gente che poi infatti c'è morta lì dentro mi scusi, mi scusi no, non dico che è colpa sua, me lo chiedo io ho già ribadito, da accertamenti fa no, 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 io le sto riuscendo qui non stiamo parlando di colpe stia tranquillo ci sto mettendo la faccia fino in fondo quindi non sto parlando qui di colpe, di responsabilità e non li rimbalzo a nessuno poi ci sarà la magistratura che farà chiarezza e questo chi avrà responsabilità se le assume io sto dicendo un'altra cosa noi come ufficio Anagrafe e come ufficio Tributi abbiamo accertato fino a stamattina che lì non c'è nessun residente e che la Tarsu è ancora intestata ai vecchi proprietari che si sono trasferiti a Palermo a febbraio del 2011 questo è un fatto per quanto ci riguarda non abbiamo avuto trasmesso né un contratto d'affitto nessuno ha fatto volture per quanto riguarda i contatori nessuno ha fatto volture per quanto riguarda la Tarsu quindi per me quell'immobile è un immobile dove non ci abita nessuno però c'è la gente che viene avevano l'acqua corrente lì dentro la luce elettrica c'è un punto le persone che sono morte lì dentro a quanto pare erano andate lì a fare un festeggiamento e plausibilmente avevano questa casa in affitto quindi tra l'altro abbiamo sentito delle testimonianze in cui dicevano se noi avessimo saputo che quella casa era pericolosa ovviamente non saremmo andati lì allora io mi chiedo sindaco capisco tutto capisco che buttare giù aspetti solo un secondo che magari le faccio la domanda capisco tutto capisco che buttare giù una casa costa tanti soldi e che magari quei soldi il comune non ce l'ha però anche passare una volta alla settimana a mettere i sigilli sulle case che non possono essere abitate magari aiuta anche gli altri a capire che quella cosa lì non si può fare questo forse costa un po' meno e forse va fatto per tutelare le persone che rischiano la vita mi perdoni i sigilli non li decide il sindaco i sigilli li decide un magistrato si ho capito dico i sigilli per dire che uno passa lì si fa vedere passa una volta a settimana e dice che lì non ci si può stare però mi perdoni non si può fare passare l'idea che io devo mettere i sigilli e non l'ho messo i sigilli li decide un magistrato o un giudice lei non mette i sigilli però può mandare un vigile una volta a settimana lei può decidere che manda i vigili una volta a settimana ho capito una cosa gliela posso dire lo sa quanti vigili ha il mio comune mi sembra di aver sentito ieri che siete arrivati ad una decina ultimamente oggi erano 7 quando mi sono insediati ho fatto la disposizione per metterne altri test siamo 10 questi devono fare tutti i servizi che riguardano la viabilità l'abusivismo l'accertamenti anagrafici devono fare tutto lei pensi che ogni settimana posso mandare un vigile in ogni abitazione per vedere chi ci abita? io penso che se ci sono 30 case abusive uno qualcosina deve fare poi capisco che non sia semplice per niente ci mancherebbe altro c'è l'onorevole Mule che forse vorrebbe farle una domanda mi perdoni sì sì allora intanto buonasera sindaco complimenti per il fatto che appunto come diceva lei ci mette la faccia e non è per nulla scontato qui non è il problema delle sue responsabilità però lei ha detto una cosa fondamentale le 30 famose abitazioni abusive da abbattere con l'ordine di demolizione a mio giudizio la obbligano a mettere in mora immediatamente dalla procura della repubblica ai carabinieri alla presidenza del consiglio perché o parte un esempio immediato che viene a sanare situazioni che sono come delle bombe innestate oppure noi tra tre giorni, tra una settimana, tra un mese ci ritroviamo a piano sono d'accordissimo prenda l'iniziativa più plateale possibile affinché queste 30 abitazioni dove spero non ci abiti nessuno spero come doveva essere quell'abitazione doveva essere anche così però lì vadano giù perché viceversa noi non usciremo mai e da questo suo esempio di un comune piccolo che è indissesto con sette vigili eccetera deve partire visto che la parola d'ordine di questo governo qual è? le ruspe bene si mettano le ruspe in campo e vadano a evitare degli omicidi che me li mandino li possono fare anche loro io sono disponibile Sindaco intanto grazie per essere stato con noi grazie davvero facciamo una cosa mi fate sentire le parole di Salvini a proposito di questa vicenda e anche a proposito del ruolo dell'Europa fatemelo sentire mi impegno a nome di 60 milioni di italiani di fare in modo di trovare questi soldi non in un quarto d'ora e di cominciare a progettare e a spendere con la certezza che non ci arrivino letterine di richiamo perché spendiamo troppo ogni riferimento a chi passa il tempo mandando letterine da Bruxelles o da Parigi è casuale Paiane ha già risposto c'è il fondo di solidarietà come è sempre stato i soldi va per l'emergenza il problema qui è o la borsa o la vita allora c'è il collega Carabetta che è un ingegnere per altre persone in questo che meglio di tanti altri sicuramente ne può parlare l'intervento non è né il miliardo né i due miliardi se si riescono a trovare l'intervento è a lungo termine lungo termine significa almeno cinque anni allora dico io invece di investire i 10 miliardi o una somma importante sul reddito di cittadinanza vogliamo ragionare in parte quantomeno in parte di spostarli sul reddito di vitalità che ognuno di noi deve avere in questo momento completavo anche un po' il discorso di prima riferimento a quel miliardo annunciato da Conte comunque era già in previsione perché noi purtroppo sappiamo che questi fenomeni lo dicevamo anche prima col collega hanno una sorta di ciclicità ce li ritroviamo ce li ritroviamo e la differenza che prima era uno ogni 10 anni adesso sono 5 all'anno adesso sono intensificati anche per i cambiamenti climatici questo l'abbiamo detto quindi l'impegno c'è il governo c'è stato sin dal primo dal primo momento quello che diceva Salvini appunto non è dire decidetevi se un miliardo o 40 miliardi è chiaro che in questo momento noi 40 miliardi da mettere per la messa in sicurezza di tutto il territorio nazionale è evidente che non ci sia per esempio tra l'iva lo sconto per le partite iva sotto i 65 milioni l'anno ogni cosa che ci costa buttarla giù 60 milioni io non confonderei troppo comunque le dinamiche della manovra economica che hanno dentro dei progetti che stanno nel contratto di governo che andranno avanti come il reddito e pensioni di cittadinanza come l'abbassamento delle tasse di imprese superamento legge fornero e le chiamerei un attimo fuori da questa ma questo è un progetto di vita questo è un progetto di vita supera tutto che troppe volte avremmo dovuto fare purtroppo purtroppo chiaramente adesso non è per fare quelli che a ogni trasmissione si dicono noi siamo qua da x mesi e prima ha governato però mai come in questo caso però in questo caso purtroppo sono cose che abbiamo visto per anni e non do colpa solo al governo centrale ma come sappiamo tutte le amministrazioni territoriali purtroppo hanno dedicato un po' poche risorse e i risultati purtroppo li vediamo secondo me un concetto buono da rilanciare in questo momento drammatico è il concetto di priorità perché alla fine chi ci guarda ci dice ok le risorse sono limitate qual è la priorità quindi in questo momento noi stiamo facendo dei ragionamenti attorno a questo discorso allora intanto che fate ragionamenti diciamo dentro nel governo tutto a posto andate d'amore e d'accordo come è stato detto anche prima da riotta che c'era prima siamo due forze politiche diverse forze politiche diverse che si sono ritrovate assieme a dover portare avanti questo governo sulla base di un contratto sono giornatine difficili o facili questo contratto è la garanzia sia per noi che per la Lega da una parte o dall'altra Maria Grazia Gerina me lo fate sentire il taglio di Maria Grazia Gerina a proposito del magnifico clima oggi come ieri non passano stranieri strani echi dal piave a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale reduce dalle celebrazioni della vittoria mutilata Giorgia Meloni si ritrova in Parlamento schierata al fianco del capitano Matteo Salvini per sventolare con lui il tricolore attorno a un'altra vittoria l'approvazione del decreto sicurezza che pugno duro sui migranti e stretta sulla protezione umanitaria approda oggi nell'aula del Senato tra minacce di diserzione da parte dei dissidenti pentastellati pronti a uscire dall'aula o addirittura a votare contro e a rompere anche con Di Maio però fra mardi e mercoledì elegge il Senato toccando ferro se non ci sono sorprese dovrebbe approvare alla Camera la settimana si apre invece con lo scontro sulle norme spazzacorrotti care e 5 stelle il caso sbelli è l'emendamento presentato su input del ministro Bonafede per bloccare la prescrizione dei processi bloccare la prescrizione dopo il primo grado significa che le posso dire mettere una bomba atomica nel processo penale e meno male che siamo in tempo di pace siamo persone di buon senso troviamo una soluzione però io credo che la riforma della prescrizione non sia una mega riforma della giustizia in attesa di soluzioni la Lega risponde presentando i suoi emendamenti alcuni secondo Bonafede sono la fotocopia di quelli di Forza Italia ho visto che sono stati presentati addirittura gli emendamenti soppressivi alla trasparenza sui partiti e sulle fondazioni che è nello spazza corrotto sono i frutti abbelenati dell'altra vittoria mutilata quella che si è consumata il 4 marzo nelle urne e che sta creando non pochi problemi al paese come è noto il voto ha premiato la Lega e 5 stelle ma non ha consegnato a nessuno dei due campioni i numeri per governare e nessun contratto può trasformare una mezza vittoria in una intera a Palazzo Chigi Salvini e Di Maio sono approdati piuttosto grazie a un armistizio eppure da quando sono insieme al governo del paese non hanno smesso ciascuno di sventolare le proprie bandiere di qua la sicurezza di là la prescrizione ogni giorno ciascuno assicura ai suoi che porterà a casa almeno in parte la vittoria ma il rischio è che siano solo vittorie mutilate destinate prima o poi a riesplodere allora Borgonovo lei gioca a 7 e mezzo conosce il gioco delle carte che si chiama 7 e mezzo si lo conosco ma non ci gioco evito le carte che sono troppi giochi d'azzardo in Italia allora facciamo finta che lei conosca le regole anzi le regole le conoscerà anche se non ci giocano si si le conosco la carta in assoluto più ambita del 7 e mezzo è il re di danari chiamato anche matta chi è la matta di questo governo Salvini o Di Maio semplifica della matta quei forse i matti però non c'è nulla di nuovo sotto il sole che noi non sapessimo prima cioè noi ci stupiamo noi ci stupiamo che ci sia un governo fatto da leghe e da 5 stelle che hanno delle posizioni diverse to che scoperta allora qual'era l'alternativa a questo governo se ci fosse stata un'alternativa politica l'avrebbero trovata il partito democratico poteva allearsi con i 5 stelle faceva quello che voleva fare invece c'è stato un governo che è un contratto non è un governo politico che ha delle posizioni diverse ed è normale che i due schieramenti tengano le loro battaglie non c'è dubbio come si è fatto fino adesso per esempio si fa o non si fa il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio allora parte Bonafede anzi parte la buongiorno il ministro che dice sarebbe una bomba sui processi fatemela vedere eccola qua bloccare la prescrizione dopo il primo grado di giudizio significa mettere una bomba atomica nel processo penale io questa cosa non posso accettarla risponde Bonafede si chiama politica riassunto per quelli che ci seguono da casa risponde il ministro Bonafede bomba è la rabbia dei cittadini dice il ministro Bonafede e poi aggiunge questo è di oggi questo era quello dell'altro giorno la bomba atomica crisca ed esplodere la rabbia dei cittadini di fronte all'impunità si aggiungono altre voci arriva la voce di Salvini che dice beh insomma ma la prescrizione non si riforma con un emendamento carabetta alla fine Bonafede insiste e dice attenzione perché lì non si arretra di un millimetro poi alla fine come dice Borgonovo siccome il gioco delle parti arretrerete? ma intanto diciamo che a proposito di contratto il tema è nel contratto di governo quindi un'azione nell'ambito della prescrizione sarà fatta pensiamo pensiamo un po' al senso non c'è tutto e non c'è niente perché dice c'è tutta la politica che vogliamo fare visto che poi volevo concludere una cosa però perché se no andiamo così cioè queste cose qua si chiamano fare politica cioè noi abbiamo dall'altra parte un'opposizione di gente che non riesce a mettersi d'accordo su dove andare a cena e con chi cioè quindi non stiamo a fare non stiamo a fare le cose gli altri voglio dire ormai fanno l'ultima di cena ecco allora quindi cerchiamo di stare un attimo seri perché va bene tutto va bene che questo governo è brutto cattivo e schifoso ci sono un sacco di cose ma per me la cosa della prescrizione è proprio l'ultima delle priorità penso che sul tema della giustizia sia molto più importante discutere del rito abbreviato con cui si mandano in giro dei criminali però per il ministro Bonafede è un tema la prescrizione siccome è lui il ministro della giustizia e dice non arretreremo allora uno chiede a un decreto sulla sicurezza che per la prima volta in questo paese mette delle cose di buon senso ad esempio sull'immigrazione che non si sono fatte in decine di anni infatti sul decreto sicurezza che pure lì vanno molto d'accordo Alessio decreto sicurezza ci sarà la fiducia i voti lo ricordiamo sono importanti numeri al senato la senatrice Paola Nugnes Movimento 5 Stelle architetta napoletana campana dissidente vicino a Roberto Fico se si vota la fiducia esco dall'aula coraggiosissimo ecco onorevole Carabetta ti do un attimo sulla prescrizione prescrizione secondo me va analizzato un attimo perché c'è la prescrizione perché ci sono una serie di reati che si dice lo Stato dopo tot anni non ha più interesse nel perseguire però poi guardiamo che cosa succede anche al di fuori dell'Italia perché Francia e Germania hanno un modello per cui nel momento in cui parte un qualche diciamo sospetto della giustizia nei confronti di un soggetto la prescrizione decade in Inghilterra non se ne parla nemmeno di questi strumenti quindi secondo noi in Italia purtroppo negli ultimi anni i cittadini lo sanno di questo strumento è stato fatto un abuso quindi questo per chiudere la parte su prescrizione per quanto riguarda invece il decreto solo che loro non sono d'accordo onorevole Carabetta adesso io capisco adesso porteremo avanti chiaramente nell'ambito questo è un emendamento presentato in Parlamento quindi a livello di Parlamento come dovrebbero fare tutti i Parlamenti è vero che non siamo tanto abituati a vedere il Parlamento che dibatte perché nei governi precedenti arrivava l'ordine dall'alto e poi si andava ratificando qua si discute e si arriverà una sintesi si arriverà una sintesi sulla prescrizione diciamo due numeri completi il 60% delle prescrizioni matura nella fase delle indagini preliminari quindi vuol dire che prima ancora che arrivi in aula il processo muore chi lo fa morire gli avvocati che perdono tempo l'imputato no chi indaga un altro dato quando si dice tot anni la giustizia poi rinuncia a fare il suo lavoro quanto sono tot anni c'è un imputato di peculato qual è il periodo di prescrizione sono 17 anni voi mi volete dire che mi volete che io devo stare più di 17 anni sotto processo perché questo stato non è in grado in 17 anni di condannarmi o dire che sono colpevole innocente dico ma vi rendete conto che questo è un ergastolo processuale stabilito per legge o no dopo di che onorevole Mule ci sono alcuni ci sono alcuni processi che gridano vendetta il 48% delle leggi sono riformate ci sono poi alcuni processi che gridano vendetta perché io non mi scorderò mai le voci delle vittime di Via Reggio o lei se lo ricorda benissimo due di quei reati sono già prescritti e quella cosa lì grida vendetta francamente ma perché ci sono tribunali dove il tasso di prescrizione è l'1% e altri in cui è il 30% ma chiedetemi perché non si è mai fatto una riforma della giustizia in questo paese perché appena tocchi quei temi là c'è la sollevazione di tutti i togati la giustizia e i bavagli non ci sarà? allora di nuovo il decreto sicurezza è un tema che rientra non voglio ripetermi però anche questo rientra nel contratto e ha avuto un dibattito parlamentare e nel dibattito parlamentare è anche stato migliorato notevolmente voce anche del nostro gruppo parlamentare dopodiché noi siamo un gruppo estremamente democratico nel senso che chiunque può dire la sua manifestare le proprie idee e dire che una cosa non gli va bene e infatti nel dibattito parlamentare nel dibattito parlamentare e beh ma non è guardi che a guardare negli ultimi anni che cosa è successo in Parlamento non mi sembra di averla vista tanto questa cosa quindi è sana ed è normale che ci sia c'è normale dialettica all'interno del partito ma c'è ma oltretutto ma le modifiche le modifiche buone ci sono stati ci sono stati dopo di che il sottosegretario Buffagna la presidenza del consiglio Movimento 5 Stelle è intervistato questa mattina De Falco vota no un altro dei parlamentari critici verso il DL Sicurezza si dimetterà il libero dibattito dentro il partito nessuno sconto ai dissidenti che cosa si dice in un gruppo che ognuno lotta per le proprie idee cerca di convincere il gruppo dopo di chi va fuori dal gruppo però in questo dato che abbiamo stiamo vivendo un momento estremamente complicato in una situazione molto complessa poi si agisce come gruppo questo sta cercando di dire quindi se agisci fuori dal gruppo vai fuori dal gruppo questo è il tema assolutamente si agisce si agisce come gruppo poi chiaramente ma chiaramente in un momento così è cruciale quindi bisogna la testura bisogna tenere dura ma le modifiche le modifiche in Parlamento sono state fatte al decreto questo l'ha detto anche Bufan e quindi se ne si devono accontentare i dissidenti abbiamo raggiunto una sintesi nella discussione parlamentare siamo arrivati a un buon punto io devo andare in pubblicità grazie agli ospiti